Martina Guicci, finita Italia-Belgio, è andata come non volevamo, però bisogna reagire adesso, soprattutto martedì contro la Polonia. Eh sì, purtroppo è andata male, è una partita da tutti i punti di vista e dobbiamo mettere in conto che ci stanno in torneo, girare la pagina anche oggi e già pensare a una partita contro la Polonia. Sapevamo che niente sarebbe stato facile, quindi andiamo avanti. Cos'è successo secondo te stasera? Cosa non ha funzionato? Penso che non abbiamo avuto la pazienza di stare lì con la testa, quando il gioco delle avversarie ci ha portato a perdere la testa, perché hanno difeso l'impossibile, secondo me alcune cose anche tanto di fortuna e hanno praticamente mandato fuori di testa. Ok, grazie. Grazie.